Dopo i sopralluoghi della scorsa settimana sono finalmente cominciati i lavori per la pensilina qui nella tribuna dello stadio Nicola De Simone di Siracusa. Bisogna accelerare i tempi ovviamente perché bisogna rispettare la data del 30 gennaio. La tribuna dovrà essere consegnata prima della partita casalinga contro la Frattese, valida appunto per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie D. Il Siracusa nel frattempo continuerà ovviamente a disputare qui le partite casalinghe, quella con Rende e quella con il Marsala. Però è chiaro che la tribuna centrale sarà chiusa al pubblico, alla stampa, alle autorità e tutti dovranno spostarsi nella tribuna laterale. Tribuna laterale che dunque ospiterà anche gli addetti ai lavori. Il sacrificio come detto durerà soltanto due partite, quella di sabato 19 dicembre contro il Rende e poi quella del 6 gennaio contro il Marsala. Dal punto di vista sportivo il Siracusa ovviamente sarà chiamato a cancellare la sconfitta di Lamezza e inanellare 6 punti nelle prossime due partite.